Cari amici ben ritrovati, il grande freddo atteso non riuscirà a raggiungere l'Italia. L'unica svolta sarà determinata dall'inserimento depressionario nel Mediterraneo con ritorno delle precipitazioni nevose sul settore alpino, su parte dell'Appennino e su alcune aree del nord. Per il resto tutto resterà nella norma e anzi dall'epifania torneremo a sperimentare l'anomala pressione, caratteristica di questi ultimi mesi. Anche domani una lieve perturbazione avanzerà da ovest, ma non sarà sufficiente a determinare i cambiamenti sostanziali del tempo. Infatti qualche debole precipitazione sarà possibile solo sui settori alpini di confine e questa volta anche al centro, ma solo nella prima parte della giornata di capodanno. Tra sabato 2 e domenica 3 gennaio è previsto l'inserimento di una saccatura proveniente da ovest, che determinerà una depressione sul Tirreno con precipitazioni sul nord-ovest e dal centro prima, su tutto il paese dopo. Insomma, una sorta di variabilità ci accompagnerà fino all'epifania, quando nuove condizioni anticicloniche, come detto, riporteranno tutta l'Italia a condizioni di mitezza fino alla metà di gennaio, argomento sul quale dovremo tornare con dati più certi nei prossimi giorni. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuvolosità irregolare al nord, al centro nuvolosità più accentuata sul Tirreno e Sardegna con qualche possibile piovasco tendente comunque al miglioramento. Nuvolaglia anche su Adriatico, ma senza conseguenze. Per il resto, bello con clima mite, mentre sulla nostra provincia qualche nube sparsa e qualche possibile debole pioggia con temperature in lieve calo, comprese tra 13 e 12 gradi. Venti moderati soffieranno da nord-ovest, con il mare nello stretto di Messina poco mosso. Sul versante tirenico nuvoloso, con fenomeni a carattere di pioggia debole. Le temperature si porteranno ai 13 gradi le massime e minime di 12, ed i venti moderati soffieranno da ovest e da ovest nord-ovest in serata, con il mar tirreno poco mosso. Sul versante ionico giornata velata, in un contesto principalmente sereno e soleggiato. Le temperature si porteranno 14 gradi diurni e 7 nella notte, ed i venti moderati soffieranno da nord-nord-ovest e da nord-ovest nella sera, ma di debole intensità, con il marionio poco mosso. Nella giornata di giovedì 31 dicembre, venti da nord-est al nord e sull'Adriatico, con parziale rimescolamento dell'aria. Qualche possibile precipitazione a carattere di pioggia debole al centro, in miglioramento entro il pomeriggio. Per il resto, situazione invariata. Sulla nostra provincia qualche nube sparsa. Le temperature si porteranno ai 13 gradi diurni e 11 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-nord-ovest, con mari poco mossi. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.